19 febbraio 1473 Nasce a Torun, in Polonia, Niccolò Copernico, l'astronomo che ha rivoluzionato la visione dell'universo medievale incentrata sul sistema aristotelico-tolemaico. Quest'ultimo modello, detto anche geocentrismo, vedeva la Terra al centro dell'universo e delle orbite degli altri corpi celesti. Copernico, nel suo scritto De revolutionibus orbium celestium, sostiene invece che sia attorno al Sole che ruotano i pianeti. Inoltre, avanza l'ipotesi della rotazione della Terra attorno al proprio asse e individua l'esatto ordine dei pianeti. Le sue teorie influenzano in maniera enorme scienziati come Galileo e Keplero, che anni più tardi riprendono e perfezionano il suo modello. L'influenza del pensiero di Copernico,